Una prima riunione di lavoro, una riunione operativa con il Presidente Berlusconi e i nuovi responsabili delle regioni per delineare la strategia organizzativa del partito e soprattutto per aprirlo alla società civile, ai club, a tutti coloro che vogliono partecipare e vogliono testimoniare con un impegno personale la vicinanza al Presidente Berlusconi ma anche ai nostri ideali di libertà. Grazie a tutti, il Presidente vuole candidare alle elezioni europee? Credo che siano milioni di italiani che glielo fiedono. Nonostante la condanna? Ma com'è possibile tecnicamente? Grazie. Non è giusto. Grazie. È vero che Berlusconi si vuole candidare come capolista in tutte le regioni? Berlusconi è una risorsa elettorale straordinaria, noi lo abbiamo invitato a considerare questa possibilità. Nonostante la condanna? All'europe è una possibilità. Nonostante la condanna, mi scusi. Ma non è un problema, si sta discutendo di questo. Berlusconi sembra molto ottimista. Sì, è una splendida forza, straordinaria, incredibile, è davvero una splendida forza. Sì, punta l'elezione del 25 maggio senza ombra di volgo. Benissimo. Ma Berlusconi vuole candidarsi alle europee? No. Adesso esce, chiedete a lui. Ne avete parlato almeno? Adesso esce, servite il Presidente, quello che dice lui e legge. Grazie a tutti. No, 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 no.